Benvenuti, terzo seminario del laboratorio dal basso, officina musei, vi ringrazio come sempre per la presenza e la partecipazione, oggi abbiamo il piacere di avere la dottoressa Eloisa Gennaro del sistema museale della provincia di Ravenna, per noi che ci occupiamo di musei è inutile dirlo che l'Emilia Romagna come regione ma in particolare la provincia di Ravenna ha sempre rappresentato una buona prassi, ci aspettiamo da questo intervento anche degli aspetti positivi che sicuramente ci saranno perché come stavamo discutendo prima con Anna e con Eloisa in questi giorni si parla della legge regionale sui beni culturali, i regolamenti quindi avere la possibilità di avere la dottoressa Gennaro che ci può far presente quello che loro hanno realizzato in provincia di Ravenna ma in particolare anche nell'Emilia Romagna è per noi può essere un aspetto veramente molto ma molto interessante. Non ho altro da dirvi, spero appunto che possiamo partecipare tutti quanti e come ci dicevamo prima con Eloisa anche a stimolarla con domande e interventi in maniera appunto da effettivamente orientare anche la giornata e le attività di oggi a seconda anche di quelle che sono le nostre esigenze e le nostre curiosità. Volevo aggiuntere un'altra cosa, considerate anche che il project work finale a cui ci si può scrivere ha la finalità proprio di questo genere, cioè cercare di mettere insieme dei partner che possono essere gli enti pubblici ovviamente per la proprietà anche dei musei ma potrebbe riguardare anche dei musei privati anche se qui, associazioni cooperative soggetti vari che in rete possono mettersi per creare appunto una rete museale e poterla gestire anche alla luce delle indicazioni che vanno verso una gestione integrata o indiretta per quanto riguarda la promozione e la valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura. Per cui questa deve essere anche un'occasione proprio per fare delle domande se qualcuno ha già un'idea di poter creare una rete tra più realtà museali. Va bene? Quindi intervenite quando volete per fare delle domande. Grazie. Buon lavoro. Buongiorno a tutti, grazie naturalmente dell'invito e delle parole di incoraggiamento. Per quanto riguarda io adesso pensavo di fare così la prima parte e la mattina presentarvi il sistema museale della provincia di Ravenna, qual è l'offerta museale del nostro territorio, come è nato, insomma fare un po' di storia, come è nato il sistema, qual è la sua struttura, come funziona e anche mostrarvi quali sono state le principali attività di questi anni. Nella seconda parte invece della giornata, adesso io più o meno ipoteticamente prima, seconda poi vediamo a correre, esatto, invece guardare un po' più nel dettaglio come è possibile realizzare gestioni o forme in maniera associata e anche un po' parlarvi delle prospettive future del nostro sistema museale, quindi non solo legate al fattore crisi ma anche un po' legate alla riforma istituzionale che è in corso e che naturalmente investe appieno le province. Anche per quanto riguarda la logistica delle pause e quant'altro, io non ho l'orologio, esatto, quando proprio uno non ne può più, anzi mi fermate in qualsiasi momento per domande, perché, esatto, e poi invece quando ci sono le pause me lo dite voi. Va bene, noi partiamo dalla constatazione che in Italia esistono, lo sapete, una realtà di micromusei per lo più diffusi su tutto il territorio e 5.000 musei in particolare, adesso il dato ufficiale è quello risale al 2006, uno studio dell'Istat pubblicato nel 2009 ma appunto il dato risale al 2006 che parlava di 4.340 istituti musei o istituti assimilabili non statali a cui si assommano 423 musei e siti statali. A questa cifra si possono aggiungere medialmente almeno altri 50 musei che dal 2006 a oggi probabilmente sono nati, visto anche la tendenza a far nascere nuovi musei nonostante tutto. musei che come dicevo sono, ecco di questi musei la maggior parte sono di piccole dimensioni, anche proprio a livello nazionale circa il 60% dei musei ha una dimensione, poco meno del 60% ha una dimensione che non supera i mille metri quadrati, quindi proprio di piccole dimensioni e quindi tendenzialmente diseconomici. In questo momento in cui le risorse per la cultura sono sempre meno è evidente che gli enti proprietari dei musei non sanno bene, insomma si pongono il problema. Gli enti proprietari che per la maggior parte sono poi gli enti locali, musei italiani, ecco così il 60% dei musei italiani sono musei di natura pubblica e di questi oltre il 40%, quasi il 50% sono proprio gli enti locali. Quindi sono loro che devono riuscire a risolvere il problema ma problemi dovuti in parte a una mancanza di pianificazione, adesso non completa, c'è chi è più o meno bravo a pianificare, però sicuramente in questi anni gli enti proprietari dei musei non hanno gestito, proprio pianificato in maniera oculata le risorse finanziarie che adesso che non ci sono più, quindi insomma il problema c'è e anche forse non sono stati così bravi nella ricerca di fondi, musei che per la maggior parte erano finanziati solo con soldi pubblici, mentre adesso i soldi pubblici non ce ne sono più, insomma il problema si sente. Analogamente quello che è mancato forse è anche una scarsa politica di valorizzazione delle professioni museali, non sempre, almeno io parlo poi della realtà ravennate, nei musei di solito c'era il direttore e poco altro. Anche i musei di media, siccome il personale è naturalmente specializzato, la nostra provincia non è una provincia particolarmente estesa, però si caratterizza per un'alta percentuale di musei, sono presenti oltre 50 musei, sono quasi tutti di piccole dimensioni e soprattutto sono distribuiti in maniera omogenea sul nostro territorio. E' chiaro, noi abbiamo il capoluogo che è Ravenna, una città d'arte, c'è una concentrazione soprattutto di monumenti legati ai mosaici bizantini, sono otto di questi, sono anche patrimonio unesco. Naturalmente la città di Ravenna presenta in percentuale un numero maggiore di musei, ce ne sono nove, però capite, nove su 50 non c'è una concentrazione. Tutti gli altri musei sono distribuiti in maniera quasi uniforme anche nella provincia. Tra l'altro nella provincia c'è anche un'altra città, Faenza, che è una città di medie dimensioni, anche quella è una città d'arte conosciuta per la ceramica. Capite che questa situazione che da un certo punto di vista presenta un lato positivo, questa grande diffusa presenza di musei su tutto il territorio, però poi può comportare delle criticità, ad esempio banalmente nella dispersione dell'utenza, ma anche nella difficile gestione dell'offerta rispetto alla domanda. Per un'idea di qual è l'offerta museale del nostro territorio, un dato interessante è quello della classificazione tipologica delle collezioni conservate. Come vedete sono tanti musei, ma sono tante le tipologie presenti nei nostri musei. Si va naturalmente dai musei di arte antica, moderna, contemporanea, a quelli archeologici, ma ci sono anche parecchi musei specializzati, dai più vari, anche abbiamo il museo delle bambole, il museo della collezione storica di marionette e burattini, proprio appartenenti a una famiglia d'arte. Ci sono quattro case museo, anche un giardino ortobotanico. Anche in questo caso la distribuzione è più o meno omogenea, in realtà i musei con quelli demoetono-antropologici e le case museo sono tutte collocate in provincia. Nelle due città principali troviamo soprattutto i musei d'arte e di archeologia. Anche qui un altro dato, quello della distribuzione geografica, come vi dicevo, la provincia di Ravenna non è particolarmente stesa, sono presenti solo 18 comuni, come vedete 15 musei su 18 presentano almeno un comune. Adesso in questo grafico c'è qualcosa che non va perché ci sono due colori simili, comunque Ravenna... Sono 18 comuni e la provincia? Tutta la provincia sono 18, sì, sono solo 18 comuni. Sono 50 musei? No, no, sono infatti, dicevo, c'è proprio questa situazione quasi... No, no, la domanda era, considerando invece i comuni della nostra provincia, che sono molto più numerosi, con solo 18 paesi abbiamo una cinquantina di musei, insomma mi sembra un dato interessante questo. No, sicuramente una situazione favorevole anche proprio alla creazione di una rete, che non a caso poi è nata, perché anche la vicinanza comunque geografica dei vari musei permette di elaborare delle strategie di valorizzazione di iniziative condivise, è molto più facile il gioco di rimando da un museo all'altro della rete, e poi laddove i musei più grandi, localizzati tra l'altro nei due centri urbani principali di Farenza e Ravea, fungono un po' da volano alla visita per i musei più piccoli. Ecco, il comune di Ravenna, credo che sia per estensione fosse però il più grande di Italia, quindi pochi comuni, ma ce n'è uno particolarmente esteso. Infatti sotto il comune di Ravenna ci sono anche 3-4 musei, che però in realtà sono collocati nelle frazioni, per fare un esempio c'è un museo naturalistico che è proprio nel parco del Delta del Po, che è più lontano da Ravenna rispetto a musei situati in altri comuni, quindi questo per dirvi dell'estensione. Comunque qui sono censite oltre 50 tipologie di collezioni, anche perché ci sono alcuni musei che presentano naturalmente più tipologie di raccolta, museo tipici, anche civici, per cui c'è la raccolta di arte, c'è la raccolta di storia, c'è l'area esatto, di storia locale, quella archeologica e quant'altro. Anche qui, per darvi un'idea, questo è il quadro invece per quanto riguarda il dato della proprietà, quasi buona parte dei musei, come poi a livello nazionale, sono di pubblici, però come vedete c'è nella provincia di Ravenna una buona fetta di musei anche privati. La maggior parte sono veramente piccolissimi musei, ma comunque ce n'è un buon numero. Per quanto riguarda l'accessibilità, anche questo è naturalmente un dato significativo per capire l'offerta museale di un territorio, noi, qui abbiamo a suo tempo, era stato fatto questo censimento, e il dato che è stato preso, quello dell'apertura settimanale delle 24 ore, perché in Emilia Romagna è lo standard minimo. Come vedete, comunque erano abbastanza pochi i musei che raggiungevano lo standard. Alla fine sono stati censiti anche quei musei aperti soltanto un giorno alla settimana o per eventi particolari o addirittura in periodi particolari, alcuni in quel momento temporaneamente chiusi, soprattutto perché in fase di riallestimento, e poi anche c'è una tipologia di musei che apre al pubblico soltanto su richiesta, ovvero su prenotazione. Ecco questo è un po' un escamotaggio che alla fine nasconde in realtà l'inaccessibilità del museo, anche perché la fruizione, il consumo culturale, a parte il mondo delle scuole che programma, ma tutti gli altri di solito, non è programmato, perlomeno non così con largo anticipo. Ecco, anche questo è un dato, quello sull'orario settimanale di un museo, che alla fine non è esaustivo per capire qual è la situazione, perché per esempio per l'accessibilità andrebbe analizzata anche da altri punti di vista, per esempio la distribuzione dell'orario nell'arco dell'anno, della settimana, della giornata stessa. Un museo che, noi ad esempio abbiamo un planetario, ecco prima nelle collezioni tipologiche, il planetario è chiaro che non espone collezioni, lavora tantissimo con le scuole. È chiaro che un museo del genere adeguatamente ha un'offerta in termini di accessibilità modulata per mesi, è aperto soprattutto da settembre a maggio, concentrate la mattina, e invece nei periodi non scolastici adotta un altro tipo di orario. Quindi anche da quel punto di vista, all'orario, naturalmente ogni museo lo modula, è giusto che sia un erbe studiato anche da quel punto di vista, in base alle caratteristiche dell'utenza potenziale. Ancora un dato che può essere utile per capire la nostra offerta è quella naturalmente della fruibilità dei musei, che si lega poi naturalmente all'accessibilità, perché se la maggior parte dei musei è chiusa, naturalmente anche l'affluenza è ridotta. Anche in questo caso si vede come i musei del Ravennate, questa è una fotografia, ecco ci tengo, forse non sono stata chiara all'inizio, di come erano i musei quando la rete è partita, quindi stiamo parlando di una quindicina d'anni fa. Musei che vi dicevo maggiormente sono tutti piccoli dimensioni, ma come vedete sono veramente pochi quelli che hanno una buona affluenza, comunque parliamo di 50.000 al massimo visitatori l'anno. La maggior parte invece aveva, o ha ancora, comunque un'affluenza media, ridotta. Bene, quindi le maggiori problematiche che erano state evidenziate a suo tempo sono state, quindi a parte la scarsa accessibilità e quindi il numero di visitatori, in una carenza di personale, soprattutto specializzato, a parte il direttore. Comunque una scarsa attenzione da parte degli amministratori all'Istituto Museo. Una scarsa, proprio per la ristrettezza di risorse, di persone finanziarie, anche una scarsa offerta di servizi al pubblico, soprattutto con un'attenzione a certe categorie di pubblico, insomma, soprattutto allora erano o gli adulti indifferenziati oppure il mondo delle scuole e anche e soprattutto uno scarso senso di appartenenza e una scarsissima collaborazione tra istituzioni. Piccoli musei e ognuno faceva per sé. Questa poi è la caratteristica comune a noi italiani, siamo individualisti, non a caso queste anche lezioni sulla gestione associata lasciano sempre molto perplessi, delle volte sembra di scendere da Marte, ma comunque. Molto velocemente io ho preparato una brevissima carrellata di tre, quattro musei del territorio. Questo per vedere com'erano, poi li rivediamo dopo, insomma, prima e dopo la cura. Questo è il museo più grande del territorio, la Pinacoteca Comunale di Ravenna, gestito in economia dal comune. Ecco, per dirvi, il direttore della Pinacoteca allora era sì individuato, ma era incarnata nella figura del dirigente dell'area appunto culturale e turistica del comune, per cui, a parte le competenze o conoscenze specifiche della collezione o comunque di una gestione museale, era anche una persona particolarmente impegnata su tutte le immaginate, il territorio di Ravenna, anche una valenza fortemente turistica, per cui il tempo dedicato alla Pinacoteca era veramente residuale. In pianta organica c'era però il conservatore e il conservatore sommava anche la funzione di responsabile della didattica. Infatti la Pinacoteca aveva poche iniziative durante l'anno, però offriva costantemente dei laboratori didattici alle scuole di ogni ordine e grado, essenzialmente scuole locali e come altro tipo di attività per quanto riguarda anche la comunicazione, visite guidate. Va bene, comunque l'accessibilità era buona, 33 ore settimanali per lo standard lavennata era comunque buono ma ad esempio era chiuso la domenica e comunque come vedete i visitatori non erano poi tanti per essere soprattutto il museo più grande. Pagava lo scotto è chiaro del fatto di essere in una città dove quando arriva il turismo c'è un turismo che sta a una giornata di solito le persone non per no lavenna non è una città dove il turista si ferma a dormire per cui chi arriva e parte in giornata va a vedere la basilica di San Vitale di Santa Pollinare e quant'altro piuttosto che la pinacoteca comunale che a quei tempi tra l'altro si promuoveva poco e male forse. E come scusi? E' gestita da una cooperativa? No, la pinacoteca aveva qualche servizio era gestito in economia c'era una gestione mista per cui c'era del personale in capo al comune in pianta organica del comune diceva appunto il direttore conservatore e alcune funzioni erano esternalizzate ma quelle della guardiania della sorveglianza la biglietteria poche altre quindi no non ho proprio gestito in economia dal comune con personale scarso del comune. I laboratori didattici chi li svolgeva? Allora i laboratori didattici a suo tempo adesso stiamo parlando quindi di qualche anno fa abbastanza anni fa erano gestiti come dicevo dal conservatore del museo che li gestiva in prima persona coadiuvata da soprattutto o persone studenti che facevano il servizio civile o anche da volontariato quindi dopo ci si è appoggiati invece sono stati esternalizzati successivamente ma vedremo proprio con una riorganizzazione gestionale del museo per cui No volevo sapere per quanto riguarda il dato sulla fruibilità come veniva monitorato essenzialmente? Il dato sulla fruibilità noi come provincia avevamo un osservatorio proprio dati per cui banalmente tutti gli anni chiedevamo il dato ai musei quindi abbiamo una nostra banca dati quindi da quel punto di vista oppure mi chiedevi scusa come il singolo museo era basato solo sul biglietto ecco no allora sì i musei e allora soprattutto c'erano infatti sono dati un po' aleatori quelli soprattutto di quel periodo perché sì chi aveva la biglietteria biglietteria automatizzata naturalmente il dato ci veniva dato anche chiaro diviso per tipologia di utenza tutti gli altri musei piccoli spesso avevano semplicemente molti gratuiti quindi semplicemente sulla conta dei biglietti oppure su quante classi erano quindi insomma calcoli così fatti non dico alla buona ma quasi dopo vedremo che infatti il sistema museale ha fornito tanti musei di un dispositivo contapersona da quel punto di vista i dati sono iniziati ad essere un po' più precisi rispetto al prima sì circa 500 insomma spesso ci hanno risposto così anche per veramente quattro anni consecutivi perché alla fine diceva insomma è possibile esatto però va bene comunque anche questo sono dati come dire che ci servono per avere un ordine di idea di grandezza dell'affluenza ecco il dato preciso non l'abbiamo è un dato che si fa comunque abbastanza fatica ad avere un altro esempio di museo invece ecco un museo che sorge a Lugo che è il terzo centro cittadino più grande della nostra provincia ed è il museo dedicato a Francesco Baracca anche questo un museo gestito in economia dal comune tra l'altro l'unico museo della città di Lugo che esponeva soltanto al primo piano dei cimeli legati all'eroe della prima guerra mondiale e un po' di arredamento anzi il resto della casa era destinata ad ospitare delle associazioni culturali o altro aperto ecco questo gestito quasi tutto con volontariato quindi abbastanza aperto nel corso della settimana però anche il flusso dei visitatori era scarso e comunque era un museo che davvero programmava ben poche attività insomma aveva una scarsa attenzione al pubblico tant'è vero che organizzava giusto delle visite guidate su richiesta e non aveva nessun tipo di rapporti per esempio allora con il mondo della scuola questo museo privato un museo a Villanova di Bagnacavallo che sorge in una ex scuola era gestito da un'associazione Villanova di Bagnacavallo è particolare era un villaggio che è cresciuto intorno all'economia della palude quindi la lavorazione della canna tra l'altro tra l'Ottocento e gli inizi del Novecento ha avuto un mercato fortissimo tanto che esportavano questi cestini di paglia ma realizzavano di tutto dai tappetini alle scarpe con la lavorazione delle erbe palustri esportava addirittura in Germania in Francia e il museo quindi quando poi con l'avvento delle materie plastiche hanno completamente dismesso questa lavorazione un villaggio praticamente ha rischiato di ritrovarsi insomma completamente svuotato e per non dimenticare questa storia così importante appunto questa associazione ha creato questo museo quindi l'associazione dal punto di vista delle professionalità anche lì gestito totalmente in base volontaria però con una forte attenzione invece al pubblico per cui un museo anche se aperto poco però che organizzava continuamente laboratori per le scuole escursioni proiezioni e quant'altro aveva anche abbastanza collaborazioni con altri musei del territorio comunque appunto come vedete per quanto riguarda l'accessibilità un museo che aveva dei problemi anche questo un altro museo invece proprio collocato in pianura è il museo civico Venturini di Massa Lombarda ecco questo per esempio tutte le collezioni tutti i musei del Ravennate le collezioni sono strettamente legate al territorio di appartenenza ad eccezione proprio di una o due questa ad esempio è una raccoglie una collezione di un medico diplomatico di fine ottocento una raccolta eteriogenea che spazia dal naturalismo all'archeologia fondi bibliografici comunque proprio uno spaccato del collezionismo eclettico dell'ottocento e il comune però aveva una collezione tutto sommato interessante ma allocata in spazi veramente poco idonei quasi aperto solo su richiesta e come vedete quindi anche la fruibilità era molto scarsa il comune più piccolo invece della provincia Bagnaria di Romagna è praticamente conserva il castello proprio era un castello conservato in maniera veramente integra quindi con c'è la rocca le mura perfettamente conservate e il borgo medievale interno e in questa bella rocca sforzesca fino a pochi anni fa c'erano gli uffici del comune e Bagnaria non aveva nessun museo le aspettative dei musei del Ravennate quali erano nei confronti di un'ipotetica rete beh innanzitutto è stata la cosa che ha un percentuale maggiore una maggiore disponibilità di fondi non solo pubblici ma anche privati poter condividere delle competenze ma anche risorse professionalità con gli altri musei limitrofi poter contare su del personale specializzato in particolare il responsabile della didattica era molto sentito ma anche il curatore in generale servizi di consulenza per tutti gli aspetti sia tecnici che scientifici del museo e infine ma non ultima anche poter avere una maggiore visibilità grazie anche a una maggiore maggiore insomma azione di promozione e comunicazione anche sia singolarmente ma anche soprattutto a livello congiunto bene come nasce il nostro sistema come vedete nasce da lontano sulla spinta sulla scia della legislazione sia nazionale che regionale degli anni 90 la provincia di Ravenna appunto mette in cantiere il progetto di creare una rete museale la legislazione nazionale parlo dell'allora legge sugli enti locali è la 142 del 90 per la prima volta attribuiva alle province delle specifiche competenze in materia di valorizzazione dei beni culturali e la legge regionale di allora la 20 del 90 incentivava proprio le province espressamente le province a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale non solo ma anche a promuovere la collaborazione tra gli enti stipulando proprio parlava di stipulare delle convenzioni e dava anche dei maggiori contributi alle province che riuscivano appunto a mettere in collegamento i vari musei per cui la provincia nel 92 dà vita a questo progetto beni culturali si partiva proprio da un'indagine conoscitiva del territorio fondamentale per poter poi costruire una rete l'indagine stimma sistema territoriale integrato musei monumenti archeologia che si è proprio preoccupato di censire tutto il patrimonio culturale della provincia andando nello specifico proprio a individuare dei luoghi e delle collezioni poco conosciute proprio perché anche dislocate lontane dai centri urbani maggiori e va bene anche censire delle manifestazioni e ipotizzare appunto questo sistema territoriale integrato allora la provincia si servì di una ditta specializzata proprio in ciò il progetto prevedeva anche la nascita di una collana editoriale questi quaderni del progetto dei beni culturali una collana che già da qualche anno si è chiusa però proprio sfruttando tutto il lavoro certosino direi fatto sul territorio sono stati pubblicati negli anni otto volumi strutturati in una sorta di viaggi in precise tipologie del nostro patrimonio per cui ci sono stati viaggi nell'archeologia industriale nelle pievi nei castelli nell'arte sacra nei siti archeologici naturalmente il primo numero fu dedicato proprio a viaggio nei musei della provincia e terza parte il progetto scuola museo ecco il progetto scuola museo nasce a parte due anni dopo perché nasce nasce con l'intenzione con l'obiettivo primario proprio di ridisegnare il rapporto nella provincia di Ravenna tra il mondo della scuola e le realtà museali proprio nella convinzione che una collaborazione più stretta potesse portare benefici a entrambi le realtà infatti in quel momento come dire era molto sentita l'esigenza di offrirsi alla scuola come ausilio alla funzione didattica ed educativa e d'altra parte i musei si scontravano con anche un insomma il mondo della scuola non dico stile ma comunque indifferente cioè la maggior parte degli insegnanti aveva una ben poca conoscenza del patrimonio museale locale ecco a fronte devo dire come è scritto c'era comunque una poca o scarsa disponibilità dei nostri musei a offrirsi come laboratori didattici erano veramente pochi musei pinacoteche e poi altro che avevano dei rapporti costanti e continuativi con la scuola il progetto scuola museo era spalmato su tre anni prevedeva un convegno l'organizzazione di tre corsi di aggiornamento per gli insegnanti proprio per far conoscere il patrimonio museale un codicontro un corso di formazione per gli operatori museali affinché cominciassero a frequentare metodologie e linguaggi innovativi e l'istituzione di un laboratorio provinciale per la didattica museale in tre anni sono stati raggiunti degli importanti risultati quindi da parte della scuola una maggiore consapevolezza delle potenzialità didattiche ma soprattutto cosa è successo i convegno i corsi hanno fatto sì che i direttori dei nostri musei uscissero un po' dall'isolamento in cui erano abituati a lavorare anche il convegno è stata la prima occasione forse sul territorio per iniziare a confrontarsi sulle esperienze attuate proprio per mettere in atto delle strategie di valorizzazione della didattica e dei musei e in questa sede fu appunto istituito un tavolo permanente di lavoro tra i direttori dei musei proprio in campo di didattica quindi l'indagine stimma con l'indagine stimma è cresciuta e maturata l'idea proprio di creare una rete con l'obiettivo naturalmente di valorizzare i musei soprattutto quelli più piccoli e invece al progetto scuola e museo come vi dicevo si crea questa occasione per i direttori di uscire dall'isolamento di iniziare a confrontarsi e quindi si realizzano veramente i presupposti per la nascita della rete quindi questo per dirvi che la nostra rete sì l'ente provincia è stato l'ente propulsore ha finanziato l'indagine ha realizzato il progetto ma l'idea di far nascere la rete è venuta dal basso sono stati i direttori dei musei che appunto hanno avvertito l'esigenza di creare la rete per la meno di avere questa sede anche di confronto di esperienze di condivisione delle risorse e per quanto riguarda invece c'è il discorso delle scuole sì cioè il fatto che non c'era questa collaborazione tra scuola e museo è venuta fuori da un'indagine quella stima oppure sì venne fuori dall'indagine stima cioè censendo i musei e anche le loro attività si vide appunto che veramente pochi su 50 musei che c'erano erano 10 che proponevano dei laboratori alle scuole locali tra l'altro quindi proprio la scuola della città e basta fu quella la poi devo dire anche che sin come dire poi vedremo io infatti vi parlerò di didattica comunque sin dall'inizio fino ancora prima che nascesse il sistema perché il sistema nasce nel 97 la provincia di Ravenna ha sempre avuto un occhio di riguardo ai servizi educativi alla didattica museale e in staff c'è sempre stato un esperto di didattica per cui come dire era sicuramente sensibilizzati da questo punto di vista sì prego scusi proprio per favorire questa rete e l'avvicinamento delle scuole visto che erano una zona un po' relegata la provincia stanza dei fondi per aiutare le scuole a partecipare alle attività didattiche o la scuola deve pagare l'attività didattica no la scuola paga da questo punto di vista la provincia dopo comunque nello scorrere della giornata lo vediamo ha aiutato e dà supporto ai musei innanzitutto alle scuole no sarebbe più complicato o perlomeno comunque come settore cultura credo che la provincia lo faccia poi c'è anche quello scarso collegamento o l'abbia fatto per come ufficio settore istruzione quindi lì ci sono stati sicuramente spesso dei contributi però proprio la rete alle scuole no soprattutto non quindi consulenza molto agli insegnanti supporto formazione perché poi questi corsi scuole museo non si sono fermati al 96 ma sono proseguiti praticamente fino a tre anni fa quindi come dire c'è stata una continua come dire assistenza e formazione al mondo della scuola ma in Vildenaro no niente lei ha detto che è una richiesta che è partita dal basso dai direttori però crede che se non ci fosse stata la provincia come ente coordinatore promotore che riusciva comunque ad avere una possibilità di azione così estesa si sarebbe potuta realizzare questa rete dei musei cioè se un privato sarebbe stato molto più difficile giusto? sì allora poi soprattutto come ricordavo comunque c'era il grande vantaggio a parte proprio che la legislazione ci diceva di farlo ma la regione ha finanziato la nascita delle reti per cui inizialmente si è potuta anche tutta l'indagine quant'altro ci sono stati dei fondi della provincia la provincia ha messo del proprio personale ma è stata finanziata particolarmente dalla regione anche tutti i progetti scuole museo la fase di start up è partita dalla provincia c'era una forte volontà politica naturalmente da parte dell'amministrazione provinciale però c'erano tutte le condizioni favorevoli probabilmente un privato non avrebbe potuto accedere a finanziamenti per cui insomma in quel momento il ruolo della provincia è stato determinante anche come burocrazia è chiaro che essendo un ente locale riusciva a rintracciare anche più entrate d'altra parte come sottolineo come ricordo la provincia dà vita a questo sistema museale alla fine degli anni 90 anche come dire guardando all'esperienza fatta dalla rete delle biblioteche perché la provincia di Ravenna in tempi veramente non sospetti 30 anni fa ha dato vita a una rete di biblioteche che è la rete tra l'altro più estesa in questo momento a livello italiano perché è partita dalla provincia di Ravenna ma veramente dopo pochi anni si è subito estesa anche alle altre due province romagnole di Rimini e Forlì per cui è una rete romagnola a tutti gli effetti adesso naturalmente ci sono anche delle differenze tra le biblioteche i musei comunque visto che esisteva questa rete e che funzionava molto bene è stata la prima aderire per esempio al progetto SBN la provincia ha copiato anche la rete per quanto riguarda i musei e per quanto riguarda invece i corsi di aggiornamento per gli insegnanti cosa trattavano essenzialmente anche una formazione da un punto di vista metodologico sull'approccio educativo i primi corsi sono stati proprio su questo per far capire agli insegnanti appunto la valenza didattica dei beni e quindi come poterli sfruttare e integrare nel curriculum scolastico quindi perché come è stata presa dagli insegnanti come scusa questo discorso dell'aggiornamento professionale c'è stata una fase di conflitto tra diverse vedute oppure è stata presa bene positivamente no 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 positivamente c'era molta curiosità e aspettativa da questo punto di vista tant'è vero che il primo corso abbiamo dovuto abbiamo io non lavoravo ancora in provincia nel 94 però è stato come dire sdoppiato raddoppiato perché c'è stato un boom di iscrizioni degli insegnanti e quindi è stata fatta una edizione primaverile autunnale parlo di 100 200 iscritti le prime edizioni hanno insomma messo su questi numeri qui proprio tantissimi insegnanti quindi per due edizioni due anni consecutivi quindi sulla metodologia di lavoro sui servizi educativi la didattica museale dopodiché invece i corsi fatto questo appunto propedeutico tra l'altro c'erano delle dispense per cui gli insegnanti potevano come dire documentarsi su queste continuamente tutti i corsi successivi hanno affrontato anno per anno le diverse tipologie di beni quindi beni archeologici antropologici artistici e così via dopodiché sempre per proseguire negli anni si sono affrontati degli argomenti trasversali per cui come fruire al meglio in generale come creare stupore come anche magari con attenzione particolare a determinate fasce di età quindi per i bambini della materna altre volte invece per quegli adolescenti delle superiori è per quello a un certo punto come dicevo fino a qualche pochi anni fa sono andati avanti questi corsi che poi si sono naturalmente trasformati in altro sono iniziato ad essere strutturati non più a cadenza settimanale che era decisamente più comodo per gli insegnanti ma concentrati in un'unica giornata un po' perché abbiamo visto appunto che gli insegnanti dopo dieci anni di corso quelli naturalmente lo zoccolo duro interessato all'argomento ormai ne aveva seguiti tre o quattro e quindi avevamo dei numeri più bassi mentre invece abbiamo aperto questi corsi e strutturato anche come formazione per gli operatori invece museali e anche questa è stata infatti una formula vincente perché concentrato poi in un'unica giornata otto ore forse adesso appunto interessano di più gli operatori piuttosto che gli insegnanti in proporzione gli insegnanti sono molto meno sono aumentati invece magari gli studenti a Ravenna c'è la facoltà di conservazione dei beni culturali e quindi poi alla fine è diventata una formazione più per studenti per operatori però insomma no no sono proseguiti e gli argomenti sono stati più disparati e comunque sicuramente è servito a creare come dire un collegamento un rapporto più stabile ecco meno episodico non c'era più solo un insegnante interessato ai musei che portava la classe ai musei ma alla fine abbiamo visto che una scuola in particolare strutturava sin dall'inizio proprio il percorso curricolare dell'anno scolastico inserendo visite nei musei gli stessi musei andavano a proporre per anni abbiamo pubblicato una guida cartacea raccoglievamo tutte le offerte dei musei in primavera in modo che quando eravamo particolarmente bravi già in giugno portavamo alle scuole i programmi i laboratori didattici offerti nell'anno scolastico successivo dai nostri musei se no quando arrivavamo un po' lunghi in settembre ma in modo che tutte le scuole della provincia fossero sempre molto informate su qual era l'offerta dei musei ravennati i quaderni che sono sul sito sono questi qui che ha descritto in questo momento ho visto che ci sono dei quaderni su vari aspetti legati alla museologia a spasso per musei era proprio in realtà delle guide informative sui vari laboratori sono altri quelli sono proprio dei quaderni di didattica museale ce ne sono di due tipi comunque va bene dopo c'è una slide brevemente vi dico quali sono quindi come dicevo alla fine di questo percorso nel 97 nasce la rete aderiscono alla convenzione 14 musei tra cui i due musei più grandi quindi nonostante l'esigenza fosse avvertita soprattutto dai musei più piccoli dei direttori dei musei della provincia però aderiscono 14 non sono tantissimi ma si stava appena partendo comunque tra questi 14 non mancano i due più grandi che sono la Pinaconeca Riva Enna e il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza che cos'è un sistema museale va bene è una rete naturalmente territoriale che comprende i musei del cosiddetto distretto culturale un'area in cui ci sono che mette in relazione integra le offerte di vari reti quindi non solo di musei anche di biblioteche archivi teatri e la filiera varia dello spettacolo accomunati quindi da questa politica culturale omogenea gli sistemi museali si distinguono in base ai musei che aderiscono ce ne sono di vari tipi normalmente ci sono delle reti monoenti cioè quando tutti i musei appartengono allo stesso proprietario o pluriente quando invece i musei sono di diversa proprietà pubblico e privati possono essere sulla base anche per esempio territoriali in realtà potrebbero esserci anche delle reti tipologiche quindi a parte il territorio poi è evidente che sono in un territorio circoscritto però possono anche essere musei che si caratterizzati per la stessa tipologia e poi un'altra distinzione sulle reti di gestione o reti di coordinamento quindi le reti di gestione sono quelle che operativamente forniscono dei servizi le altre sono quelle che più che altro fanno coordinamento o supportano attivamente effettivamente i musei della rete il nostro sistema museale è naturalmente una rete territoriale basata su territorio provinciale pluriente perché gli enti che aderiscono sono di diversi proprietari ed è stata istituita come prevedeva anche la legislazione mediante una convenzione convenzione quindi ai sensi dell'articolo 30 del testo unico degli enti locali e punta non è una rete quindi di gestione ma punta sostanzialmente al coordinamento e al sostegno delle attività fu deciso abbiamo sempre mantenuto anche nelle convenzioni che si sono succedute nel corso di questi 15 anni che per accedere al sistema fossero necessari determinati requisiti minimi anche questa è un'esigenza naturalmente registrata in fase di costruzione del nostro sistema requisiti minimi perché lavorare in rete dà soddisfazioni ma è anche una cosa abbastanza complessa per cui mettere dei requisiti seppur minimi garantiva una certa omogeneità da parte di tutti i nodi della rete per cui fosse più semplice perlomeno poi la gestione e la condivisione delle attività per cui i requisiti minimi come vedete sono quelli di avere approvato un regolamento insomma perlomeno sia scritto nero su bianco qual è la missione del museo qual è la sua dotazione a livello di risorse di aver individuato la figura del direttore individuato quindi è nominata e anche poter garantire un'apertura continuativa del museo seppure minima quindi anche sotto lo standard poi regionale comunque un museo aperto il museo il sistema museale la scelta è stata quella di gestirlo in economia quindi non in un'altra forma magari un po' più complessa ed è stato gestito appunto in economia dall'ufficio musei della provincia che lo ha istituito proprio in occasione della nascita del sistema la struttura organizzativa in particolare prevede un coordinatore di tutte le attività del sistema che si avvale di due persone in staff che lo aiutano in tutti i processi organizzativi del sistema è previsto anche è stato previsto dall'inizio come vi dicevo un responsabile sulla didattica museale un responsabile sulla conservazione e un responsabile anche informatico di questi il coordinatore personale persone in staff e responsabile informatico era un impianto organica della provincia stessa coordinatore due e una persona in staff dedicati a tempo pieno al sistema gli altri in maniera informatico e un altro amministrativo insomma part time invece il responsabile della didattica e della conservazione erano degli incarichi a delle quali modalità sono stati allora sempre perché si era in tempi non sospetti erano degli incarichi professionali per quanto riguarda il responsabile della didattica erano a progetto poi naturalmente questa pratica come dire non si è potuta fare è la stessa cosa responsabile della conservazione adesso ci si avvale tramite esatto delle cooperative quindi viene una persona quindi con degli incarichi della parte con una gara di appalto si si con una gara di appalto poi si anche da questo punto di vista il sistema è totalmente finanziato dalla provincia quindi non ci sono praticamente quote non sono state chieste mai delle quote associative ai musei aderenti conta naturalmente sui contributi per specifici progetti da parte della regione e anche da parte di sponsor privati ora punto il nodo fondamentale per il funzionamento del sistema è il suo comitato scientifico che è formato da tutti i direttori dei musei aderenti il comitato scientifico si riunisce diverse volte nel corso dell'anno proprio per confrontarsi condividere le conoscenze e le buone pratiche si discute come vi dicevo di questioni sia di natura scientifica allestimenti o quant'altro sia proprio anche di natura gestionale inoltre abbiamo visto che funzionano molto bene comunque dei gruppi di lavoro più ristretti sono sicuramente più operativi rispetto rispetto al comitato scientifico anche perché inizialmente i musei che hanno aderito erano 14 oggi sono 39 già nel 2000 i musei da 14 erano passati a 20 dopo 4 anni c'è stato quasi il raddoppio nel 2004 i musei sono passati a 37 e nel 2010 sono passati a 39 perché si sono aggiunti i due musei statali presenti sul territorio quindi adesso poi lo vedremo avanti tutti i musei pubblici presenti sul territorio aderiscono alla rete come vi dicevo prima il sistema museale è una rete che si basa su convenzione quindi è una rete che potremmo dire leggera non dei compiti di gestione ma dei compiti soprattutto di coordinamento e supporto però sicuramente è una rete leggera sì ma è ormai una rete consolidata e interloquisce con le 4 macro aree in particolare che compongono il nostro territorio provinciale che sono il comune di Ravenna l'unione della bassa romagna che comprende 9 comuni l'unione romagnola faentina che ne comprende 4 e poi fuori da tutto ci sono due piccoli comuni che hanno deciso di non aderire alle unioni e sono troppo piccoli per fare un centro gestionale come invece il comune di Ravenna che sono Cervia e Russi quindi è evidente ma questo poi magari lo vedremo in prospettiva per alcuni gruppi tematici si inizia già a lavorare come dire avendo di fronte non i 30 soggetti proprietari dei musei con cui naturalmente si discutono progetti si pianifica ma quindi invece di essere la provincia più 30 soggetti si inizia a essere la provincia più 5 soggetti cioè i rappresentanti delle 4 macro aree viene il rappresentante del comune di Ravenna e parla per 12 musei in realtà questo vale naturalmente per i musei pubblici civici in questo elenco ci sono anche i musei privati però comunque alla fine devo dire che nella nostra rete gli attori i musei che partecipano maggiormente che dimostrano un grado maggiore appunto di coinvolgimento nelle attività sono tutti musei pubblici un po' meno quelli privati soprattutto in questo periodo perché da qualche anno con le leggi finanziarie l'ente pubblico non può più per esempio finanziare i musei privati soprattutto a livello di investimenti quindi fondi derivati da mutui per cui tutta una serie di contributi che il sistema ha dato in materia di allestimenti o di messa a norma delle strutture i musei privati da questo punto di vista non ne possono più beneficiare ma anche come contributi a progetti sicuramente in questo momento con scarse risorse l'amministratore e il politico privilegia il contributo al museo pubblico piuttosto che a quello privato anche perché quello privato in questo momento si è un po' un cane che si morde la coda mi rendo conto ma molti stanno veramente chiudendo o quasi vi ricordo che sono piccoli musei tra l'altro è una situazione insomma abbastanza grave ecco di questi ultimi anni ecco questo è la pianta della nostra provincia dove vedete tutti i numeri sono le località in cui sono presenti dei musei il discorso che vi facevo prima è una situazione molto frammentata però come vedete veramente omogeneamente diffusi sul tutto il territorio quindi il nostro sistema è come avete capito una rete che funziona a due livelli praticamente c'è il sistema museale provinciale che garantisce questo coordinamento e poi a livello di gestione c'è il comune o laddove esistono adesso le unioni dei comuni da questo punto di vista in questi anni sapete le unioni dei comuni stanno venendo alla ribalta poi vedremo vedremo come ma proprio per assicurare questo raccordo tra questi due livelli sarebbe importante ma è importante che il responsabile del settore cultura delle unioni laddove esistono o del comune partecipi appunto come dicevo a questi comitati scientifici ristretti quindi non più proprio solo su temi particolari ma in generale proprio a livello di pianificazione e sviluppo del sistema stesso proprio per affrontare queste varie tematiche comuni come vi dicevo come cosa fa il sistema per supportare e coordinare i propri musei lo fa proprio agendo su un duplice livello sia direttamente con delle azioni a sostegno dei musei ma anche indirettamente promuovendo delle collaborazioni a livello locale per quanto ci riguarda una rete a doppio livello noi stessi il sistema museale funziona meglio se a livello gestionale in questo periodo di scarsità di risorse i musei riescono a gestire almeno alcuni segmenti operativi in maniera associata e quindi collaborando a livello locale come funziona questo laboratorio per la didattica museale si adesso anche lì ci arriviamo quali sono gli obiettivi quali sono gli obiettivi del sistema naturalmente sono gli obiettivi tipici delle reti spendere meglio spendere meno e incassare di più quindi intanto condividere le eccellenze con l'obiettivo proprio del raggiungimento dei vari standard di qualità contenere i costi attraverso le economie di scala ma anche proprio come dicevo trovare più intercettare maggiori entrate sia pubbliche ma soprattutto in questo periodo private questi sono gli obiettivi generici invece gli obiettivi proprio specifici del nostro sistema sono quelli di valorizzare di promuovere i musei attraverso tutta una serie di strumenti disponibili anche sul web ma anche sostenere gli investimenti dei musei in particolare andando a dare dei contributi sui piani piani museali annuali ai progetti dei musei più virtuosi e anche quindi non solo contributi al singolo museo ma anche realizzando direttamente dei progetti di sistema ad esempio le audioguide e quant'altro quindi in ultima analisi è proprio quella di favorire la crescita collegiale di tutti i musei sempre naturalmente con un occhio di riguardo ai musei più piccoli che è poi l'obiettivo specifico comunque di una rete parlavo prima degli standard di qualità ecco la regione Emilia Romagna recependo appieno il dettato del codice deontologico di ICOM e poi del decreto ministeriale sugli standard pubblicato nel 2001 ha a sua volta approvato un documento che elenca tutta una serie di standard di qualità a cui i musei della regione devono gradualmente adeguarsi un documento pubblicato nel 2003 e come dire è stato da quel momento un po' il faro per le azioni del sistema quindi tutte le azioni del sistema sono mirate proprio ad aiutare e supportare i musei nel raggiungere questi standard gli standard museali della regione come dicevo si rifanno alla direttiva ministeriale sono divisi in otto diversi ambiti che sono questi adesso li vedremo uno per uno quindi come dicevo il sistema supporta nei vari diversi ambiti il primo ambito quello che prevede che tutti i musei abbiano lo statuto o il regolamento a secondo dei casi il sistema ha elaborato questo proposito un modello un modello di regolamento condiviso in cui appunto sono elencate la vocazione del museo quali sono i ruoli rinunciabili su quali risorse deve contare quali sono le possibilità organizzative possibili questo documento si come dire è uno schema tipo però è stato realizzato è anche uno strumento come dire flessibile in modo che ogni museo lo possa adattare sulla base delle proprie caratteristiche e delle proprie esigenze quindi è un documento che rispetta l'autonomia diciamo del museo ma che in certo modo vuole anche incentivarne per così dire la creatività il museo con una sorta anche quindi di responsabilizzazione da parte degli amministratori è chiamato a modificare a integrare a sviluppare in maniera personale questo schema per adattarlo alle proprie necessità e caratteristiche questo quindi lo standard del regolamento è sicuramente un obiettivo raggiunto da tutti i musei del sistema che lo hanno appunto adottato modificandolo a caso per caso ecco questo è un estratto dal regolamento tipo che comunque è anche scaricabile dal nostro sito questo è come vedete un modello che è stato fatto per i musei che non hanno personalità giuridica e che sono quindi in capo al comune i musei che hanno personalità giuridica più che il regolamento naturalmente avevano lo statuto quindi noi abbiamo comunque badato alla maggior parte dei musei anche il museo privato poi l'ha adattato e come vedete per quanto riguarda i principi di gestione questa è una cosa di cui poi parleremo il museo può scegliere se gestire direttamente il proprio museo oppure di avvalersi di soggetti esterni ai sensi del codice dell'articolo 115 del codice dei beni culturali e in ogni caso come vedete è possibile anche gestire i servizi del museo a livello in maniera associata a livello sovracomunale per quanto riguarda lo standard 2 quello dell'assetto finanziario più che altro anche da questo punto di vista il sistema continuamente dà degli impulsi per attività di pianificazione degli obiettivi e poi di rendicontazione dei risultati prima parlavo ad esempio dell'apparecchiatura contapersona questo è solo un esempio però in generale anche grazie alle rendicontazioni che chiediamo sempre ai musei laddove hanno avuto un contributo come dire in un certo modo educhiamo i musei stessi a questo tipo di mentalità perché insomma anche da questo punto di vista spesso per mancanza di tempo è chiaro si si lavora poco e male alla pianificazione e ancora meno alla rendicontazione gli standard 3 e 5 riguardano la struttura e la sicurezza nei musei anche qui in maniera generica però per anni il museo ha il sistema ha dato dei contributi proprio per mettere a norma i musei contributi che arrivano a coprire fino al 50% della spesa sostenuta i contributi il sistema li dà anche ai singoli ai singoli musei per cui ed è quello che dicevo anche prima quindi poi su questi contributi noi in ogni caso chiediamo prima di dargli una pianificazione una progettazione anche su base poliennale e a conclusione del progetto una rendicontazione quindi gli abitivi raggiunti le spese sostenute e quant'altro c'è un limite di budget del progetto sì il progetto da questo punto di vista sugli investimenti per le strutture così deve essere minimo un progetto di 10.000 euro e per quanto riguarda invece al massimo come dire regolati dal buon senso perché poi naturalmente la provincia in questo contribuisce anche la regione ecco se sono progetti validi la regione contribuisce insieme alla provincia al progetto stesso e qui per esempio in questo grafico vedete gli investimenti realizzati soprattutto a livello di strutture e sicurezza non solo questo è un dato complessivo riguarda anche i supporti e i contributi dati ai progetti di allestimento possiamo dire che nei primi anni adesso ho riportato solo quelli dal 2006 in poi in realtà questo tipo di contributo parte già dal 2000 in maniera sistematica nei primi anni soprattutto sono stati dati contributi alla struttura e sicurezza negli ultimi anni di più invece agli allestimenti naturalmente è cambiata anche un po' l'atteggiamento o almeno anche la regione Emilia Romagna incentiva negli ultimi anni ad avere un occhio di riguardo nei confronti del pubblico per cui sicuramente è diventato prioritario anche un allestimento comunicativo queste sono le cifre investite da provincia e devo dire che per quanto riguarda gli investimenti queste somme accumulano anche il contributo regionale che viene attratto sul bilancio della provincia per contribuire a precisi progetti come vedete c'è un netto calo negli ultimi negli ultimi anni e un calo che io non ho riportato il dato del 2013 perché il bilancio della provincia di Ravenna non è stato ancora approvato siamo in maggio non mi ricordo da che lavoro in provincia di un ritardo ma insomma è naturale sarà approvato in giugno staremo a vedere ma secondo me insomma ipotizzo che la linea continui a scendere come dicevo dal 2007 in particolare però ecco i contributi sui progetti vengono dati unicamente ai musei che garantiscono determinati standard fondamentali determinati standard fondamentali che a parte appunto l'accessibilità e avere un regolamento puntano molto sulla presenza di figure professionali adeguate sia come formazione che numericamente per cui si possono ricevere contributi soltanto se in capo al museo sono garantite le funzioni principali di direzione conservazione responsabile dei servizi educativi e sorveglianza ecco questo naturalmente perché perché il sistema museale la regione stessa incentiva o comunque spinge al raggiungimento degli standard però naturalmente i singoli musei sulla base delle proprie disponibilità finanziarie o anche delle politiche insomma di governo locale decidono autonomamente se realizzare o meno un determinato standard e questo naturalmente il fatto di poter accedere a dei contributi se si hanno determinati standard come dire è un incentivo al raggiungimento come appunto commento alla alla carenza costante al calo costante di soldi il rischio appunto che soprattutto per la sicurezza delle strutture standard o meno standard ci sia proprio un taglio del cordone ai contributi sia provinciale ma anche purtroppo regionale anche la regione Emilia Romagna nel 2013 non promette niente di buono sul versante degli istituti culturali per cui mentre come dire mantiene per lo spettacolo purtroppo biblioteche archivi e musei sono accomunati da una triste sorte comune ritornando ai nostri standard ecco quello delle professioni museali come vi dicevo il sistema comunque supporta i nostri musei proprio nella ricerca e nella di una dotazione adeguata e necessaria delle professionalità lo fa appunto in attuazione di determinati documenti voi sapete che la questione delle professioni museali è una questione cruciale che viene dibattuta da abbastanza anni e che comunque tutto sommato è ancora in corso sicuramente il primo passo importante è stato fatto grazie all'approvazione di questo standard questo decreto ministeriale del 2001 che per la prima volta definisce chiaramente le varie tipologie di professioni museali in Italia e anche come dire voglio ricordare il lavoro fatto dalla conferenza permanente delle associazioni museali italiane che nel 2006 ha approvato la carta nazionale delle professioni museali dove a partire dalle aree principali funzionari di un museo quindi che sono la direzione la conservazione i servizi educativi la sicurezza la struttura amministrativa ha delineato adesso non mi ricordo benissimo ma mi sembra 21 professioni professioni museali elencando per ognuno le caratteristiche le conoscenze le competenze ma anche i percorsi formativi i requisiti di esperienza ad avere da questo punto di vista anche la regione ha fatto uscire un documento in realtà norma quattro profili professionali però è rimasto un po' nel limbo questo documento alla fine è stato approvato dalla regione ma la regione non ha mai detto chiaramente come bisogna rapportarsi comunque diciamo ecco anche da questo punto di vista quello che dicevo prima il museo non sono regole vincolanti come qualsiasi altro tipo di standard per cui un'amministrazione può decidere se e come assumere persone in numero adeguato e che abbiano un'elevata professionalità in campo museale proprio perché dispongono di autonomia organizzativa e proprio per rendere effettiva questa invece quanto stabilita dalla regge regionale che prevede appunto l'adeguamento agli standard tra cui con le professioni museali che come vi dicevo c'è stato questo collegamento tra i contributi che vengono erogati e il possesso degli standard quindi questo vale a maggior ragione per le professioni museali lo standard regionale chiama dice che i musei devono garantire le funzioni basilari di direzione conservazione didattica e custodia inoltre in sede regolamentare deve appunto disciplinare gli assetti organizzativi in modo che siano proprio garantite queste quattro funzioni deve inoltre nominare i soggetti responsabili di queste quattro funzioni ecco qui anche lo standard la regione dice che anche una sola persona in capo a una stessa persona ci possono essere anche volendo tutte e quattro le funzioni naturalmente con i limiti del caso però è possibile cumulare più funzioni così come invece poi vedremo è possibile anche invece avere le funzioni in maniera associata per cui un responsabile della didattica insieme a altri cinque o dieci musei del territorio e infine anche però applicare gli standard quando si definiscono i profili professionali da acquisire da esternalizzare quindi tramite con il capitolato d'appalto o anche con un concorso in caso di assunzione per cui sempre tenere presenti questi documenti anche qui noi come nello schema tipo del nostro regolamento abbiamo fatto proprio riferimento a questo cioè che il museo deve garantire in maniera adeguata quindi numericamente e con continuità alle funzioni fondamentali anche qui lo schema tipo precisa quanto vi ho detto prima che questa dotazione stabile può essere garantita naturalmente anche grazie a soggetti esterni e ancora le possono essere accorpate in capo alla stessa figura o gestite in maniera condivisa quindi nei regolamenti andrebbero sempre riportate tutte le varie possibili soluzioni gestionali proprio perché insomma di volta in volta si può decidere poi cosa è meglio fare questo per quanto riguarda prima parlavamo del laboratorio del laboratorio provinciale per quanto riguarda la formazione professionale intanto da continuamente consulenze e organizza corsi di formazione su vari argomenti nel corso degli anni ne abbiamo veramente organizzati tanti ma per quanto riguarda poi la funzione didattica in particolare da un supporto a tutti gli operatori dei musei del settore attraverso appunto il suo laboratorio attraverso consulenza ma anche aiutando proprio nella pianificazione dopo anche se c'è del tempo non so avevo fatto un focus proprio sulle azioni del sistema nella didattica però quindi da una mano per esempio uno standard per quanto riguarda legato alla professionalità della didattica è quello che il museo deve dotarsi di un piano delle attività didattiche annuali un piano che risponde a determinate insomma caratteristiche e da questo punto di vista il laboratorio ha dato un supporto almeno in fase iniziale a tanti musei in alcuni casi anche proprio anno per anno nella redazione di questo piano delle attività didattiche ma è facoltativo questo? per la singola istituzione museale? per il piano delle sì no è facoltativo tutto è facoltativo come dicevo per quanto riguarda gli standard perché un museo può decidere di continuare a chiamarsi museo e di non raggiungere nessun tipo di standard però se si vogliono accedere a determinati benefici da parte di regione e provincia quindi anche la stessa adesione poi al sistema museale con i vantaggi che può comportare appunto a livello di poi economie o di risorse aggiuntive è quello come dire di cercare di raggiungere lo standard per cui il piccolo museo che chiuso semi aperto e non fa il piano delle attività va bene un grande museo un museo insomma di medie dimensioni bisogna che rispetti questo standard però come dire nulla è obbligatorio è obbligatorio solo anche proprio in funzione di ricevere dei fondi e in questo momento che la regione e le province non si sa neanche che fine faranno come dire sicuramente non è un incentivo per gli amministratori un conto è che l'amministratore ci crede che voglia avere un museo che funzioni un museo moderno che funzioni come deve funzionare e quindi cerca in qualche modo di avere lo standard la maggior ragione è che c'è un supporto come quello della provincia che non dico che evidente non posso essere io del sistema che decido il museo per quali target fa proposte didattiche con che frequenza l'anno che tipologie però do un aiuto al responsabile al direttore responsabile dei servizi educativi per far sì che l'offerta didattica sia come dire valida e sostenibile dando tutti gli apporti possibili immaginari a partire dalla promozione anche proprio a partire dal contributo che viene dato io analizzando prima il discorso degli standard museali vedevo che ci sono queste funzioni direzione conservazione didattica e custodia che devono essere garantite dai musei per ottenere per rispettare gli standard e poi per eventualmente ottenere dei finanziamenti della provincia della regione la promozione la pubblicità finanziamenti anche altri tipi per esempio di servizi vedremo la regione a chi raggiunge 14 particolari standard dal riconoscimento di museo di qualità una volta che uno ha ottenuto questo riconoscimento ha come dire tutta una serie di vantaggi e di benefici a livello finanziario ma anche proprio a livello di promozione entrano nei circuiti di attività di valorizzazione promozione sicuramente però lei ha detto che praticamente queste quattro funzioni potrebbero essere rivestite da una stessa figura in teoria lo standard lo dice sì proprio perché l'ideale certo soprattutto per un grande museo sarebbe che ogni funzione fosse incarnata in una persona precisa con specifiche competenze però come dire questo non è un controsenso nel senso se andiamo verso la qualità del servizio io dovrei avere per ogni funzione parlo per esempio della conservazione o della didattica delle persone che abbiano delle competenze ah no indubbiamente però specifiche dico certo certo allora il problema è che anche la regione nel fare lo standard naturalmente si è posto il problema siamo in Italia la cultura mentre per le biblioteche già c'è una mentalità diversa per il museo no un sindaco assessore medio se gli si va a dire che il piccolo museo ha bisogno del direttore ma anche poi del conservatore del responsabile della didattica ti guarda per dire ma stai scherzando perché il museo viene aperto un po' no la medaglia sul petto a differenza della biblioteca che invece viene percepita come un servizio da dare al cittadino che se chiude il cittadino va a fare il barricaccio sotto il comune e invece poi alla fine se il museo è aperto alle sue collezioni dentro ma poi apre due ore la settimana solo la domenica non è una grave perdita quindi a partire da questa come dire idea un po' diffusa che è ancora un po' difficile da scardinare e soprattutto in un momento di crisi si è ritenuto comunque piuttosto che mettere uno standard irraggiungibile oppure raggiungibile solo da grandi musei e grandi istituzioni di comunque far sì che la funzione comunque ci fosse una persona che garantisse in qualche modo queste funzioni a quel punto lo si può aiutare comunque perlomeno vuol dire che la funzione educativa ci deve essere perché se manca proprio il responsabile dei servizi educativi perché il comune non è obbligato ad averlo perché non è obbligato a rispettare gli stanno e non ha i soldi lo vorrebbe anche fare magari ma preferisce investire quei soldi lì per dare un altro incarico fare un'altra cosa ecco almeno c'è il direttore che è chiamato ad assolvere anche alle funzioni educative poi lo farà cercando non di farlo lui in prima persona ma di avvalersi di personale esterno di incarichi però perlomeno è una funzione che sa che deve coprire in maniera continuativa lo farà magari come può assumendo insomma incaricando qualcuno ma almeno si è pensato insomma la razio è quella poiché non posso puntare ad avere 100 almeno ho il 50 perché se no il rischio è se non ho 100 zero in quell'altro modo se mettevano il responsabile della didattica deve essere per forza una persona così così e che non cumula altre funzioni perché se no sottrae del tempo insomma in attesa di tempi migliori la regione ha fatto questa valutazione comprensibile insomma magari come dire ecco anche la la mia osservazione era per il fatto che si sta a parlare sempre della carta nazionale museale della carta europea delle professioni museali poi ci rendiamo conto che in Italia effettivamente c'è una persona che fa tutto non a caso sentivo che si vuole rimettere mano alla carta anche comunque per semplificarla un po' in modo che sia un po' più che rispecchi un po' più la situazione invece mi sembrava molto interessante il discorso che aveva avviato la regione proprio Emilia Romagna sulle qualifiche professionali perché lì si potrebbe agire bene nel senso che effettivamente anche in un'ottica di certificazione delle competenze di professori non riconosciute come queste adesso c'è la legge anche sulle professioni senza albo per cui si potrebbe anche lavorare bene da questo punto di vista il discorso di creare delle qualifiche professionali con una formazione adeguata potrebbe ovviamente dare la possibilità ai professionisti anche di avere una certificazione che effettivamente io mi occupo nello specifico di un determinato settore chiaro giusto c'è anche tra virgolette un riconoscimento certo la provincia e la regione cercano appunto di spingere in questa direzione però con tutti purtroppo con tutte le difficoltà che ci sono e con i comuni insomma non danno risposte sì facciamo una pausa 10 minuti un quarto d'ora grazie a tutti grazie a tutti